Buongiorno a tutti, questa è una lezione introduttiva sull'uso delle cellule staminali in ortopedia, in particolare da tessuto adiposo e in particolare nel trattamento dello stertrosi del ginocchio e in altri ambiti di cui parleremo più avanti. Per capire che cosa possono fare le cellule staminali nell'ostartrosi del ginocchio bisogna avere le idee abbastanza chiare di che cosa sia l'artrosi del ginocchio. L'artrosi del ginocchio intanto rappresenta la causa più diffusa di inabilità e perdita di qualità di vita nel mondo industrializzato insieme all'artrosi dell'anca ed è una patologia che non siamo attualmente in grado di bloccare, siamo in grado di operare un ginocchio artrosico sostituendo l'articolazione con una protesi, ma non siamo in grado di bloccare in maniera efficace l'evoluzione di questa patologia. Questo è abbastanza strano anche considerando che invece in patologie più gravi come per esempio l'artrite reumatoide abbiamo in realtà imparato che possiamo controllare con una terapia medica l'evoluzione di questa patologia. Quindi migliorare la nostra conoscenza dell'artrosi ci è servito per essere poi in grado di identificare dei nuovi trattamenti che permettono di curarla e di rallentarne l'evoluzione. L'intomatologia dell'artrosi del ginocchio è prevalentemente il dolore e il dolore è prevalentemente causato dalla infiammazione. Quindi benché la malattia sia considerata una malattia non infiammatoria ma degenerativa alla base dell'evoluzione di questa malattia sta l'infiammazione. Se noi osserviamo un'articolazione di un ginocchio in rapida evoluzione artrosica vediamo che c'è un componente di sinovite che si può evidenziare anche attraverso l'artroscopia, quella che una volta veniva definita semplicemente artroscopia diagnostica. L'artroscopia diagnostica non è il primo studio dell'articolazione che permette di confermare la diagnosi ma normalmente il primo studio che viene eseguito è l'RX standard. I vantaggi dell'RX standard sono che può essere fatto in maniera funzionale, quindi può essere fatto in ortostatismo e valutare veramente bene i carichi a livello dell'articolazione e per sottrazione la quantità di cartilagine che rimane all'interno del ginocchio. È un esame semplice, un esame non costoso e la componente di protezionistica relata all'intensità di radiazione, la quantità di radiazione che assorbe un ginocchio normale, un RX standard, è molto bassa. Altro discorso è quello della TAC che ci permette di avere una buona risoluzione e soprattutto una risoluzione multiplanare, però espone il paziente a una radiazione molto più importante, una quantità di radiazione molto più importante e quindi normalmente si tende a non utilizzare questo esame come una prima linea diagnostica. Sicuramente tutti e due questi esami ci permettono di valutare, forse la TAC un po' meglio, la componente dell'osso subcondrale. La componente dell'osso subcondrale è stata dimostrata essere molto importante, come vedremo più avanti, nell'evoluzione dell'osteartrosi. Quello che non vedono questi due esami è invece la componente che vede molto bene certamente l'artroscopia, cioè la componente dei tessuti molli, i tessuti non calcificati e la risonanza magnetica è un esame, l'esame principe per la valutazione dei tessuti molli. Da un ottimo contrasto, una ricostruzione multiplanare permette di vedere i legamenti, i menischi e la componente cartilaginea e sinoviale. Sicuramente non è un esame di primo livello, ma è un esame che ci permette poi di dare indicazioni su una base molto precisa dal punto di vista della qualità dei tessuti, soprattutto quelli non calcificati. Le immagini radiologiche sono sufficienti per capire qual è la gravità dal punto di vista strutturale di un'artrosi, ma non sono sufficienti per fare una diagnosi dell'evolutività e della rapidità della progressione di questa artrosi. Quante volte come ortopedico mi sono trovato di fronte a un paziente come il paziente A, che ha un quadro artrosico piuttosto importante, con un ginocchio però assolutamente fresco, asciutto, totalmente asintomatico e altre volte mi sono trovato di fronte a un paziente invece B, con dei segni magari di artrosi inferiori, comunque presenti, con un ginocchio gonfio, infiammato, con un Rx non particolarmente importante, ma con una risposta infiammatoria che si autosostiene e che causa la progressione della malattia. Non è chiaro dunque perché alcuni pazienti mantengono una situazione stabile di una artropatia degenerativa stabile, altre invece attivano un circolo vizioso di infiammazione e degenerazione articolare che causa poi, in ultima analisi, la necessità di un intervento chirurgico. Quindi siamo passati dal definire l'artrosi come l'evoluzione di una lesione traumatica o di una lesione di consumo, quindi è un danno prettamente biomeccanico, al dimostrare che l'infiammazione cronica, eventualmente il trauma, sono responsabili dell'attivazione di una risposta immunitaria. Questa risposta immunitaria è la causa intrinseca della patogenesi. Questa infiammazione si misura attraverso la quantità di sinovia che si forma, l'ipertrofia sinoviale è evidenziabile anche con l'ecografia, quindi questo è molto interessante perché ci fa capire come un esame ecografico possa avere il suo ruolo all'interno della diagnostica dell'artrosi, in particolare del ginocchio, ma anche dell'anca, eccetera. L'ipertrofia sinoviale che si evidenzia poi anche molto bene a livello dell'artroscopia diagnostica perché la si vede proprio come queste digitazioni simili a delle attine all'interno del liquido articolare e insomma è in grado di evidenziare la componente infiammatoria molto bene. Quindi appare chiaro che l'osteartrosi ha qualcosa di molto importante a che fare con il sistema immunitario che è quindi responsabile dell'infiammazione della sinovia che c'è nell'osteartrosi. Cosa avviene prima? La sinavite o il danno cartilaginio? Probabilmente è un danno diciamo meccanico strutturale minore che causa questa progressiva infiammazione e quindi la sinovite successiva. E' molto importante come da ormai una decina d'anni si sa molto bene, quindi non solo la cartilagine è importante nell'osteartrosi ma anche la sinoviale, non solo la membrana sinoviale ma anche l'osso subcondrale. L'osso subcondrale gioca un ruolo molto importante perché interferisce attraverso fattori rilasciati dalle cellule che risiedono nell'osso subcondrale all'evoluzione infiammatoria dell'articolazione. Quindi la sinovite diventa importante non soltanto dal punto di vista diagnostico come abbiamo visto finora ma anche dal punto di vista terapeutico come un potenziale target per il trattamento sia dei sintomi che dell'evoluzione del danno all'interno dell'articolazione. Sono dei fattori solubili rilasciati dalle cellule sinoviali, dalle loro componenti infiammatorie che sono in ultima analisi responsabili dell'attivazione del processo catabolico a livello della cartilagine. è la sinovia stessa che stimola la costruzione di un nuovo osso, in particolare gli osteofiti che si formano ai margini dell'articolazione ed è la sinovia stessa, l'ispessimento della sinovia e l'infiltrazione della sinovia da parte di cellule immunocompetenti che causano un fenotipo pro-infiammatorio che rilascia delle citochine che si ritrovano poi all'interno dell'articolazione. Si crea quindi un circolo vizioso alla base del quale c'è il rilascio di mediatori pro-infiammatori e catabolici come l'ossido nitroso, le citochine, le prostaglandine, i neuropeptidi che dalla sinovia arrivano nello spazio articolare e alterano il bilanciamento dei processi di degradazione e ricostruzione cartilagine che provocano alla fine un'eccessiva produzione di enzimi litici, proteolitici che sono le metalloproteasi che poi sono quelle che alla fine causeranno la distruzione della cartilagine. Un trattamento della sinovia, un blocco di questo circolo vizioso, provocherà sia una riduzione della sintomatologia che una riduzione degli eventi strutturali che progressivamente causano la degenerazione. Per riassumere, sostanzialmente la sinovia si infiamma già nelle fasi molto precoci di osteoartrosi ma anche nelle fasi finali. L'infiammazione sinoviale causa i sintomi e i segni clinici dell'osteoartrosi come il dolore mattutino, il versamento articolare, la sensazione di rigidità eccetera eccetera. La sinovite può essere evidenziata sia dall'esonanza magnetica che dall'ecografia che artroscopicamente. Il gold standard per documentare questo fenomeno infiammatorio di questo tessuto è l'analisi istologica. Quanto si infiamma la sinovia può essere un sistema predittivo per capire quanto poi la cartilagine articolare andrà incontro a un danno progressivo. La sinovite di per sé è causa dei processi infiammatorio attraverso il rilascio di vari mediatori solubili che possono poi essere considerati un target importante sia dal punto di vista della diagnostica che soprattutto dal punto di vista terapeutico. Il modello quindi appare abbastanza chiaro in cui la l'iperplasia sinoviale è il risultato dell'infiltrazione di cellule infiammatorie prevalentemente macrofagiche e da cellule TB, NK e mastociti. Il danno locale all'articolazione causa l'attivazione dei macrofagi che rilasciano tutto un pattern molto preciso di molecole associate alla malattia che saranno chemochine, complemento eccetera eccetera che sono in grado poi di stabilizzare questo fenomeno infiammatorio e renderlo cronico reclutando sempre più macrofagi e linfociti e facendoli migrare verso il tessuto sinoviale. A lungo termine si instaura un aumento dell'angiogenesi, un aumento del danno mediato da metalloproteasi, un aumento delle prostaglandine e quindi anche della sintomatologia dolorosa che è proprio l'essenza dell'artrosi. In modo abbastanza semplice possiamo definire che come da questo cartoon si possa partire da una lesione del tessuto o acuta o cronica o causata sovraccarico da trauma o da lesione della cartilagine nella sua inserzione all'osso subcondrale, lesione meniscale, legamentosa, capsulare che possano causare all'interno della sinovia il rilascio di molecole che possono attivare in qualche modo il sistema immunitario. Queste molecole possono essere riconosciute sui toll-like receptors, possono essere riconosciute come attivatori del complemento, possono essere riconosciute come sostanze cataboliche che attivano la sinovite. La sinovite successivamente a sua volta attiva l'erosione della cartilagine. Tutto questo avviene attraverso sia il rilascio di citochine che l'infiltrazione di cellule che arrivano dall'esterno a livello del sistema immunitario. Tutto questo può causare un fenomeno infiammatorio cronico che è sostenuto dall'infiltrazione di una popolazione cellulare pro-infiammatoria all'interno della sinovia. La chemiotassi delle cellule immunocompetenti e la sua attivazione dipende dalle componenti che si trovano poi all'interno del tessuto sinoviale, quindi i toll-like receptors, le chemochine, citochine, le dumps e prevalentemente il complemento. Perché in alcuni pazienti questa situazione evolve rapidamente verso un osteoartrosi e in altri pazienti no? Questo si può spiegare con l'efficienza di un tipo cellulare che è stato dimostrato molto recentemente che è il macrofago residente all'interno del sinovio. Non il macrofago che arriva dall'esterno attraverso i sanguigni ma un macrofago che forma una barriera tra la sinovia e l'interno dell'articolazione e che è in grado di avere un grande ruolo anti-infiammatorio e di bloccare l'attività invece dei macrofagi che arrivano dal sangue periferico. I macrofagi residenti, cioè i macrofagi che sono in grado di modulare l'infiammazione all'interno dell'articolazione sono esattamente lo stesso tipo di macrofagi che si trovano all'interno del tessuto adiposo. Quindi se vediamo questo dato in prospettiva possiamo capire quanto all'interno dei nostri estratti di tessuto adiposo con cui trattiamo l'osteartrosi ci possano essere delle componenti cellulari non staminali che hanno un ruolo estremamente importante nella modulazione dell'evoluzione di questa malattia e possono essere una delle ragioni per cui questo trattamento è un trattamento estremamente efficace. Perché nell'anziano l'osteartrosi è più importante? Perché nell'anziano si formano all'interno dell'articolazione delle cellule che hanno delle caratteristiche diciamo di assenza di risposta all'apoptosi e la base degli studi attuali sull'invecchiamento è appunto il fatto che ci sono delle cellule che arrivano alla fine del loro ciclo vitale tendenzialmente non muoiono, si chiamano infatti cellule zombie e queste cellule zombie cominciano a fare dei danni hanno un fenotipo secretorio, si eccernano delle molecole all'interno dell'articolazione nelle zone circostanti a dove si trovano che causano un fenomeno diciamo infiammatorio cronico e che in ultima analisi come abbiamo già visto è la causa di una lesione degenerativa progressiva. diciamo che il medico che segue le linee guida della fondazione per l'artrosi e che fa tutte le cose per bene per trattare i propri pazienti di fronte a un fenomeno diciamo non particolarmente avanzato per il quale non c'è indicazione ancora a fare una protesi sceglie per il suo malato una serie di indicazioni che sono l'esercizio la perdita di peso, dei programmi di diciamo recupero funzionale attività aerobiche come il tai chi, l'uso del bastone, l'uso di ortesi e l'uso di antinfiammatori a livello locale e l'uso di antinfiammatori non steroidei a livello diciamo sistemico. nel armamentario del medico che non dà un'indicazione protesica ci sono quindi ancora vari altri possibili trattamenti l'uso di visco supplementazione con ialluronico, i trattamenti diciamo cortisonici con tutti i vantaggi e gli svantaggi che questi portano e l'effetto catabolico a lungo termine che è più una causa di danno che un effetto positivo per il paziente l'uso delle PRP che invece è diciamo un sistema che è molto valido per spegnere il fenomeno infiammatorio le PRP cioè gli estratti piastrinici autologhi dello stesso paziente permettono di trattare a livello articolare con delle infiltrazioni le fasi precoci infiammatorie e gli estratti piastrinici avendo di per sé un grosso effetto antinfiammatorio che è quello che hanno nel momento in cui si rilasciano anche a livello fisiologico nell'ambito di una ferita eccetera eccetera quel tipo di fattori causa una modulazione infiammatoria e quindi una riduzione generale dell'infiammazione. Per la loro componente antinfiammatoria sono stati fatti degli studi anche con monociti da sangue circolante maggiori sono gli studi e maggiori sono i risultati utilizzando estratti di tessuto adiposo sia cellule staminali espanse sia di origine adiposa che di origine midollare la frazione vascolare stromale cioè la frazione cellulare del tessuto adiposo che come abbiamo visto contiene non soltanto cellule adipose ma anche tutta una componente immunocompetente antinfiammatoria che è il tessuto adiposo estratto meccanicamente di cui vedremo più avanti. Il trattamento conservativo potrà prevedere nel futuro l'infusione di secretomi che sono il gruppo di vescicole che normalmente rilasciano le cellule staminali e le altre componenti immunocompetenti che noi estraiamo dal tessuto adiposo in maniera grezza. Se noi riusciamo a concentrare tutti questi fattori e mantenerli attivi e infiltrarli in maniera diciamo sistematica nel ginocchio e nell'articolazione malata potremo probabilmente ottenere gli stessi risultati che oggi otteniamo con l'estrato crudo. Come abbiamo visto ci sono molte componenti diciamo proteiche, citochine e altri fattori dell'immunità innata che sono coinvolti nella promozione di questo fenotipo diciamo artrosico che noi sicuramente cominciamo a conoscere questi fattori e nel futuro non possiamo escludere di poter produrre dei farmaci che interferiscano con questi fattori e quindi che modulino poi la malattia stessa. Se poi ci troviamo di fronte a una lesione focale della cartilagine, quindi non una lesione diffusa, abbiamo già a disposizione un certo armamentario diciamo che deriva dalla nostra esperienza in questi tipi di trattamenti che consiste sia da una parte nella stimolazione dell'osso succondrale con vari tipi di microfatture, microfori eccetera e sia l'uso di scaffoldi, di membrane che di impianti con una componente diciamo biocompatibile abbastanza importante. Sicuramente il trapianto osteocondrale è un metodo utile per una lesione focale e si tratta di spostare un trapianto osteocondrale autologo da un punto di non carico a un punto di carico e oppure di usare degli allograft su strato sottile che possono essere ripopolati nella zona di lesione. Dal punto di vista dell'utilizzo di cellule localmente o caricate sulle membrane o sugli scaffolds, sicuramente ci sono gli estratti micromanipolati di tessuto adiposo, c'è stato l'uso di cellule cartilagine autologhe espanse che è un uso che ha avuto una grande popolarità fino all'inizio di questo secolo e che adesso si sta usando un po' meno per i risultati non particolarmente brillanti di questo tipo di trattamento. Ci si è anche ipotizzato, ci sono anche stati degli studi fatti con un misto di trattamento con cellule staminali e cellule estratte da cartilagine ed espanse.